bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi i video sulle missioni della settimana numero uno non sono finiti abbiamo visto ragazzi qualche ora fa il video dove vi indicavo tutti i luoghi proibiti su cui danzare ma c'è un'altra missione davvero molto molto interessante in questa settimana che ci serve assolutamente da capire bisogna atterrare in diversi luoghi specifici e il primo luogo ragazzi è una corona di camper voi vi chiederete qual è beh ragazzi la state vedendo proprio davanti a voi in questo momento come vedete sono a gerusalemme ragazzi dove c'è l'ultima montagna sulla parte più esterna della ma passiamo nel quadrato h10 e come vedete ragazzi c'è già una persona questa è la famigerata corona di camper mi raccomando ragazzi atterrateci e cominciate a completare la missione lasciamo perdere lui primo punto di atterraggio completato il secondo posto invece dove dobbiamo atterrare ragazzi è una tartaruga di metallo e come vedete ragazzi la state già vedendo davanti a me una nuova location una nuova parte della mappa ed è vicino al bosco blaterante tra la casa dei supereroi e il bosco blaterante ragazzi c'è questo nuovissimo animale costruito appunto con gli oggetti di gioco un po come il lama del crocevia del cerpame basterà semplicemente atterrare nella sua cima e avremo completato la seconda fase della missione. Terminiamo ragazzi con l'ultimo luogo che è il sottomarino e ragazzi si trova nella nuova parte innevata della mappa lo stiamo quasi per vedere peta che non mi ricordo eccolo qua dov'è ragazzi il nuovo sottomarino come vedete proprio sotto di noi in cima ad una montagna non si sa bene perché sia qua ragazzi siamo praticamente come vedete vicino a rampe ghiacciate il sottomarino è proprio qua basterà solo atterrarci sopra e completeremo anche questa parte della missione quindi ragazzi io vi ricordo un bel pollicione in su non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità il x le sfide e le curiosità di fortnite noi ci vediamo in live ciao 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 ciao